Si aperta con il professore e filosofo Massimo Cacciari la prima delle due anteprime dell'undicesima edizione dei Dialoghi di Trani, nel Museo Diocesano del capoluogo della BAT a dialogare con Cacciari gli studenti del corso di linguaggi della filosofia dell'Università Aldomoro di Bari. Un incontro di riflessione, un confronto a più voci, preceduto da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Emilia-Romagna. Al centro del dibattito è il Mediterraneo come opportunità da accogliere e come argomento da riportare sulla scena politica. Professore, lei dice che dobbiamo riportare il Mediterraneo nella grande discussione politica. Come poter fare e chi soprattutto può farlo? L'Europa, le autorità europee, la politica europea, che dovrebbe comprendere che la grande risorsa per l'Europa è ricostruire un'ecumene mediterranea, riallacciare i rapporti e relazioni non soltanto economiche e commerciali con l'altra sponda. Questa è la risorsa che l'Europa attualmente ha. Non può pensare di competere sul piano dello sviluppo manifatturiero e neanche sul piano delle grandi operazioni innovative, tecnologiche, eccetera, con da una parte la Cina, dall'altra gli Stati Uniti. È una missione culturale, politica, sociale e culturale quella che l'Europa potrebbe svolgere nel mondo contemporaneo. Tema di quest'anno dei dialoghi di Trani, i cambiamenti intesi come opportunità per tutti, come imperativo economico, politico, morale, come un nuovo patto generazionale, oltre gli egoismi di parte, come sfida.